Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Oggi facciamo un velocissimo recap perché ieri sera c'è stata la live inglese Square Enix dove hanno parlato di Ever Crisis, giusto per raggiungere e correggere alcune cose che nel video recap che trovate da qualche parte qui a sinistra o destra potete andare a consultare per guardare i dettagli, quindi per poter ottenere tutte le varie informazioni nel dettaglio che vi interessano. Cominciamo parlando ovviamente col fatto che hanno annunciato la live stream, hanno parlato un po', hanno chiacchierato, hanno discusso del più e del meno, hanno ringraziato ovviamente i colleghi giapponesi, comunque solite lavate di culo, solite cose e passiamo subito alla roba interessante. Quindi annuncio ovviamente della nuova modalità della Gilda che verrà rilasciata ufficialmente a luglio. Ci tengo a specificare questa cosa perché si è parlato tanto di giugno o comunque si è parlato tanto di concomitanza col crossover, ma non è così. Quindi vi assicuro già da adesso che a giugno ci sarà il rilascio delle Gilde. Per quanto riguarda quello che sappiamo delle Gilde non cambia niente, quindi in alto a sinistra il livello della Gilda, a sinistra sempre il menu con i vari pannelli con cui è possibile interagire con la Gilda, a destra la chat sotto i potenziamenti della Gilda. La cosa invece importante che è stata confermata ieri è che il numero di partecipanti alla Gilda è un numero iniziale di 30, quindi 30 persone potranno partecipare o comunque potranno entrare inizialmente all'interno della Gilda, ma il numero potrà essere esteso. Quindi man mano che la Gilda aumenterà di livello, completerà le missioni e riuscirà in un modo o nell'altro a ingrandirsi in tutti i sensi, potrà espandere anche i numeri dei partecipanti. Quindi vi dico già da adesso che comunque io farò un censimento fondamentalmente perché voglio sapere chi vuole partecipare alla mia Gilda per cercare di vedere se abbiamo i numeri per poterla raggiungere. Quindi vi invito già da adesso a scrivere sotto nei commenti o comunque contattarmi su Discord o Instagram, Telegram, dove volete voi e scrivermi se volete partecipare alla Gilda mia oppure no. Ditemi voglio partecipare oppure fate l'hashtag direttamente io voglio partecipare oppure io partecipo, io ci sono, una cosa del genere. In modo tale che io leggendo i commenti o leggendo le persone che mi scrivono già so se abbiamo il numero per poter creare una Gilda e quindi la creerò direttamente al day one e poi farò entrare chi ovviamente desidera entrare. Successivamente andiamo avanti con i potenziamenti della Gilda, anche questi li abbiamo già trattati, saranno diverse categorie di potenziamenti che potremo controllare grazie alla Gilda e la cosa che vi posso comunicare ufficialmente e aggiungere alle informazioni che già vi ho dato ieri è che questi potenziamenti, questi power up saranno attivi sempre per il giocatore. Quindi qualsiasi giocatore farà parte della Gilda avrà questi bonus sempre attivi, quindi non sono dei bonus che saranno attivati solo durante le missioni di Gilda o comunque durante il gameplay della Gilda ma saranno attivi sempre, quindi voi avrete la possibilità di avere sempre attivi questi bonus. Andiamo avanti con la schermata invece delle battaglie, le battaglie della Gilda sono la stessa identica cosa che vi ho già descritto nel video di ieri l'unica cosa che vi aggiungo in modo ufficiale è che praticamente si otterranno dei punti tramite la partecipazione alle battaglie e dei punti per il completamento della battaglia quindi tutti i membri della Gilda che parteciperanno e che completeranno le missioni riceveranno dei punti in base al loro contributo e in base alla partecipazione quindi tutti quanti comunque avranno qualcosa, quindi non c'è problema, siate tranquilli perché tutti quanti avranno qualcosa quindi potrete scambiare poi successivamente i punti. Come si vanno a scambiare questi punti? Come si vanno a integrare tutte queste cose che si ottengono dalle battaglie dei raid e dei boss? Ovviamente con le armi, le armi che vi ho fatto vedere già ieri che sono appunto la mazza chiodata per Cloud, il Bamboo Ring per Yuffie, il Rocket Punch che in teoria richiama molto Tifa ma non si è capito bene se sarà un'arma di Tifa o di Barrett e poi gli headphones che vi avevo annunciato essere un'arma di Lucia in realtà molto molto probabilmente saranno un'arma di Red perché appunto le cuffie verranno messe al collo tipo collare, infatti notate tipo le borchie e lì praticamente gli headphones saranno un collare per Red, ok? Quindi questa è l'unica cosa che ci tengo ad aggiornare e a sottolineare Andiamo ancora avanti con l'evento estivo dove vengono mostrate altre due armi che saranno date probabilmente a Cloud e Sephiroth perché comunque Zack ha già l'ombrellone quindi potrebbero essere delle armi farmabili all'interno dell'evento estivo e poi ovviamente si è discusso delle nuove skin di Yuffie e di Lucia, entrambe bellissime, Lucia è illegale, veramente incredibile, una cosa pazzesca e poi siamo andati avanti, siamo andati avanti parlando del nuovo personaggio giocabile di Vincent che verrà comunque rilasciato all'interno del gioco con dei livelli superiore credo che saranno livello 60 o comunque 65 già di base e poi ovviamente si dovrà far avanzare fino purtroppo a livello 80 ma se funziona come tutti gli altri personaggi avremo il bonus esperienza quando verrà rilasciato e quindi sarà abbastanza semplice portarlo subito a livello 80 Andiamo ancora avanti con il crossover, con l'evento crossover dove appunto viene presentato il nome ufficiale dell'evento in inglese che è diverso rispetto a come era stato presentato in Giappone ovvero Rathalos in the Midgar Skies dove io erroneamente avevo confuso il Rathalos con la Rathian Rosa poi mi è stato comunque comunicato il fatto che il colore originale del Rathalos in realtà è rosso io in realtà il Rathalos l'ho sempre visto blu perché ho giocato a Monster Hunter World quindi mi sono fatto correggere, amen quindi il boss ufficiale di questa collab è il Rathalos presentato in maniera ufficiale dove appunto si è spiegato che potrebbe in un qualche modo essere aggiunta una sorta di meccanica dove è possibile spezzare le parti del corpo del boss un po' come funziona su Monster Hunter dove si spezzano le varie parti del corpo però parlandone in chat e avendo la possibilità di discuterne un pochettino tra di noi c'è venuto in mente il boss finale di First Soldier dove praticamente bisognava rompere determinati sigilli per poi poter attaccare il boss quindi potremmo avere una sorta di meccanica simile quindi rompere magari i sigilli che indicano la coda per poi successivamente rompere i sigilli che indicano il Rathalos con un determinato attacco quindi è una meccanica che può tranquillamente essere replicata qui su Ever Crisis e che vedremo sicuramente all'interno del gioco poi successivamente abbiamo il crossover appunto tra personaggi e creature di Monster Hunter dove appunto abbiamo in questo caso Cloud unito con il Glavenous i nomi delle creature io non me li ricordavo ve l'ho detto esplicitamente già durante la registrazione del video di ieri oggi invece abbiamo i nomi delle creature in modo tale che possiamo avere delle informazioni precise e per quanto riguarda Cloud abbiamo appunto la Glavenous Sword e la Glavenous Armor che sono per l'appunto il punto centrale per quanto riguarda il personaggio abbiamo già visto anche che cosa è in grado di fare l'arma in questo caso di Cloud quindi 850% di danno con overboost 10 vi ricordo e poi danno non elementale fisico che riduce la difesa fisica e aumenta il proprio attacco fisico abbiamo anche corretto questa cosa dove nel momento in cui leggete drastically all'interno delle descrizioni significa mid potencies quindi avremo molto probabilmente un'arma che avrà mid mid inizialmente successivamente avremo un mid high con la prima stella rosa e poi un doppio high quando avremo il full overboost 10 almeno in teoria gli scaling dovrebbero funzionare così ma avremo conferma nel momento di rilascio del crossover andiamo avanti invece con Zack dove Zack invece è stato unito allo Zinogre quindi abbiamo praticamente la Zinogre Sword e la Zinogre Armor e per quanto riguarda Zack abbiamo danno tuono 940% di danno tuono fisico con la possibilità di moltiplicare il danno di 1.2 se gli HP di Zack sono superiori al 70% quindi probabilmente Arcanum fisico tuono per Zack chi ha Cloud io consiglio di tenere Cloud anche perché comunque portare al massimo un overboost 10 quest'arma rischia di essere veramente dispendioso quindi la Murasame può essere portata tranquillamente su Cloud per chi lo possiede può comunque sfruttarlo benissimo almeno per me la scelta è abbastanza logica successivamente abbiamo Tifa con il Kirin il Kirin è un'altra creatura di tipo pulmine, di tipo tuono quindi quando Tifa avrà la possibilità di ottenere la sua skin la Kirin Suit e i Kirin Gloves probabilmente effettuerà danni tuono non so se saranno tuono fisico-magici quindi vedremo effettivamente che cosa succederà vedremo un po' come sarà impostata il personaggio di Tifa ma quella che veramente creerà e crea i dubbi in tutti è Eris Eris prenderà appunto il ruolo di Noa da Monster Hunter Rise in questo caso quindi sappiamo già chi è il personaggio e sappiamo già anche quale sarà appunto la sua arma che ho dimenticato forse di mettere comunque sì è praticamente una staffa sì ho dimenticato di metterla ma è comunque una staffa quindi abbiamo la possibilità di vedere Eris sotto un punto di vista diverso probabilmente potrebbe essere un support potrebbe tornare ad essere un support e questa è una cosa molto interessante è una cosa molto interessante perché abbiamo ipotizzato comunque io personalmente ho ipotizzato il fatto che se avesse una difesa fisica con un attacco fisico per tutti i membri del party potrebbe tornare ad essere molto molto importante potrebbe tornare ad essere molto interessante ma vedremo mentre invece per quanto riguarda Kitesit vi posso comunicare ufficialmente che Kitesit sarà invece il personaggio free to play che si otterrà all'interno della collab quindi la disposizione dei banner e dei personaggi potrebbe essere come quella di Final Fantasy 9 quindi un mese intero di collab Monster Hunter con il primo banner in cui abbiamo Cloud e Zack con praticamente le loro armi e le loro skin e Kitesit farmabile e invece la seconda parte dell'evento con il personaggio di Tifa con banner singolo e l'ultima parte dell'evento con Eris e banner singolo anche per essa così come era successo praticamente con Eris che faceva Garnet e Kuja che invece era interpretato da Sephiroth quindi questo potrebbe essere appunto la disposizione ufficiale dell'evento ancora non sappiamo niente non abbiamo ufficialità però se dovessi pensare se dovessi un attimino viaggiare con la mente direi che effettivamente la disposizione più logica è questa successivamente non c'è altro da dire se non per il fatto che appunto abbiamo Kitesit farmabile come free to play ufficiale ah! un'altra cosa che invece mi sono dimenticato a proposito di free to play è che durante l'evento estivo è stato annunciato che Barret avrà la skin free quindi è possibile avere forse almeno a quanto pare Barret e Marinaretto quindi potremmo avere Sailor Barret finalmente e potremmo averlo appunto farmabile free to play durante l'evento estivo mi è venuto in mente adesso che appunto stavamo parlando di skin free to play infine vi lascio con le ricompense che verranno date all'accesso login dopo la manutenzione del crossover quindi ovviamente avete la possibilità di poter ottenere queste ricompense e vi ricordo anche che i ticket premium che verranno dati dopo la manutenzione potranno essere utilizzati solo sui banner del crossover quindi non potrete utilizzarli sugli altri banner ve lo specifico perché è giusto così però lo sapete detto ciò ragazzi vi lascio in riferimento il video che ho fatto già ieri dove ci sono molti più dettagli rispetto a questo diciamo recap un po' così con conferme smentite e altre novità che abbiamo potuto ottenere dalla versione inglese io come sempre vi ringrazio per essere stati con me spero che il video possa essere stato interessante e ci becchiamo alla prossima bye bye